io dico da più indietro bella ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio io sono bluefire e qui con me c'è Igor135 non è vero come ti chiami? ragazzi è Lyuki lui è Lyuki ragazzi Lyuki aveva un canale di 5000 iscritti ed è stato hackerato perciò vi chiedo di riscrivervi al suo canale no non è vero installare questa grandissima applicazione per zoomare oh blue ma com'è che ti chiami su minecraft un attimo non ti trovo sono qua davanti a te non mi dire il nome minecraft vieni qua io sono totel censurami censurami non voglio vedere non voglio vedere la parte inferiore di te censurami ragazzi non è molto sexy è totel ah ragazzi dobbiamo scappare cavolo coco ti seguo no mi sono incastrato non ci vedo bella ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono qui con i miei due compari come vedete loro sono bravissimi nel prepararsi negli younger games sono già incastrati tutti e due uno via sperma bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi guida scopo cosa ragazzi qui da voi con voi è gesù cristo se 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 indietreggio ancora un po' cadi giù nel burrone non potrei mai più fare video ciao oh non è caduto se no l'hai registrato ma qui in canto se l'hai registrato spero si ragazzi che fail enorme lol dai 30 secondi un maiale no ha tutto il tempo di tornare lol 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 dove siete vediamo sto scavando un attimo rega devo stare qui il kit il kit il kit giusto scelto io ho preso l'accendino ma com'è che si fa troppo potente che si fa a scegliere il kit seguite la scia di fuoco seguite la scia di fuoco seguite la scia di fuoco io sono qui lo spawno a prendere del legno seguite la scia di fuoco che io vedo la gente che brucia seguite la scia di fuoco io la sto seguendo però tu giri vieni va oh c'è una tnt no ho finito il mio accendino mia è un compromettente no era era una tnt guarda cos'ho guarda cos'ho virgo guarda cos'ho guarda cos'ho ragazzi andiamo al ponte venite al ponte venite qua al ponte quale ponte no freccia Yoshi no Yoshi sono morto da solo però vabbè oddio ho ucciso pazzarello via voi due siete assolutamente incapaci di trattare un commentary che cazzo è successo mi ha fatto spavolare sopra un albero è una cosa insensibile io sono così cazzo che cazzo è successo a tutti oh chi è che ho l'assativo da impressare chi è che è una spada perlomeno attenzione rimediamo quella spavola capparala come matti tipo i migliori capparala al mondo eeeh haaa 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 cosa cavolo state facendo eeeh si tratta di eeeh eeeh è una specie di arte eeeh si chiama chest arts eeeh sto morend in buona sostanza bisogna creare questa specie di pene allo spawn haaa sto lagando no e poi arriva quello quello power che che ti rovina tutte le idee non lo so perchè mi sorella vuole pc e quindi e tu glielo dai il tuo dispiacere è immenso mh haaa haaa c'è devo andare a mangiare ciao raga lascia aperta la chiamata bla 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 ragazzi no bella ragazzi beeeella no ho concluso il video voce no 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 mo